ben ritrovati al dream soccer park per un'altra stagione esaltante di grande calcio la apre la coppa italia serie a sfida tra l'udinese e pescara andiamo a vedere gli era ex del match parte fortissimo l'udinese con attanazio agnello che controlla in aria lascia rimbalzare il pallone esplode il destro che fa secco il portiere e poi la volta di grimaldi che dalla lunga distanza indovina l'angolino alla sinistra del portiere c'è gloria anche poi per talevi che fissa il risultato sul 3 a 0 con un altro destro giro precisissimo passano i minuti ancora predominio dell'udinese attanazio si gira in aria rete 4 a 0 secondo tempo ecco questo tiro ancora dalla lunga distanza di talevi imprendibile poi d'astuzia sarà attanazio agnello a mettere dentro un'altra punizione successivamente calcio d'angolo per l'udinese pallone al centro grimaldi svetta sulla difesa del pescara verso la fine del paio della partita c'è gloria anche per calvanese che esplode un diagonale verso terra imprendibile e infine talevi e di nuovo dalla distanza fissa il risultato sul 9 a 0